Primo sabato del grande esodo estivo, traffico sostenuto lungo le nostre strade e autostrade dove si è registrato qualche rallentamento in A4 tra Padova Este e il Bivio con l'A57 in direzione Trieste. Flussi sostenuti anche in direzione Milano, alla barriera di Venezia Mestre, sempre lungo l'A57, attese tutto sommato brevi, dove è stato registrato il transito di 12.000 veicoli in uscita, sostanzialmente simili rispetto al sabato omologo del 2021 e con la prima settimana di agosto CAV, concessionario del tratto autostradale, prevede quattro weekend di traffico intenso lungo il passante e la tangenziale di Mestre, in particolare saranno a venerdì 5, sabato 6 e 20 e domenica 21 e 28 agosto le giornate da bollino rosso della stagione estiva. Quindi ripresa del traffico e riprende, proprio in questi weekend, che sono poi quelli caldi, tradizionalmente considerati di esodo, anche il nostro impegno che naturalmente non viene mai meno ma in questo caso viene addirittura potenziato. Abbiamo una serie di potenziamenti di uomini, di mezzi che stanno direttamente sulla strada, pronti ad intervenire in qualsiasi situazioni di emergenza, per effettuare qualche deviazione, per segnalare una coda, per portare dell'acqua nel caso in cui ci sia necessità. 12.000 le bottigliette d'acqua che CAV mette a disposizione dei viaggiatori in caso di necessità. Caffè offerto inoltre a partire da questo fino settimana e così per tutti i weekend di agosto per chi viaggia da mezzanotte alle 5 del mattino nelle aree di Arino Est e Ovest, predisposto un presidio fisso della Croce Rossa con ambulanza, sempre in corrispondenza dell'area di servizio di Arino Est, con CAV che derisce inoltre anche quest'anno alla campagna di Enpa contro l'abbandono degli animali domestici.